ciao a tutti ragazzi sono altri e bentorni sul mio canale allora il titolo lo so che vi ha un po insomma d'è stato l'attenzione perché tre giorni fa è uscito un video di uno youtuber mi sembra americano inglese e già scritto come finire gta in cinque minuti auto e gt file in femmine dopo apriamolo allora e l'ho aperto quel video tanto comunque sarà già farà parte di questo video qui perché ci guiderà verso quello che succederà e in effetti lui ha finito gta 5 in cinque minuti tenendosi addirittura un altro personaggio al posto di franklin una volta finita la storia quello veramente non vi spoiler chi sarà però guardate il video intanto il video di questo youtuber è nella descrizione quindi potete andare a consultare in maniera integrale e non in maniera diciamo un po spezzettata come farò io prima di tutto io gta 5 l'ho finito una cosa come mi sembra 13 14 volte però ho detto magari mi sono perso qualcosa cioè non è che sono il dio della tecnologia cioè magari mi sono perso qualcosa anche perché giochi come per esempio far cry sia il 4 che 5 si possono finire in cinque minuti però è proprio di perdi guzzo di aver speso tutti quei soldi per averlo comprato detto questo ragazzi siamo qua con michael la storia è finita è la stessa storia che vi ho portato su youtube basta che voi andate a guardare la mia playlist che vi lascio in descrizione della storia completa e vi dico informazioni che ho raccattato anche stamani che per giocare cioè per completare tutto gta senza fallire missioni senza morire niente ci vogliono 72 ore che sono 48 oddio 48 58 sono tre giorni completi quindi adesso andiamo a aprire il menu partita nuova partita e andiamo ad aprirlo intanto andiamo a consultare il video originale di questo youtuber che ci dice di quando siamo lì che dobbiamo sparare a certe persone di rompere il di rompere l'estintore ovviamente ragazzi il video del youtuber lo vedete filtrato perché così si distingue abbastanza bene dal nostro che le scene sono le stesse e potreste anche confonderli vi dico che non ho assolutamente controllato i commenti non ho assolutamente provato cercato di verificare prima di fare questo video quindi per me tutto nuovo per me potrebbe essere vero e non vero io non ci credo però appunto sfatiamo questo mito e andiamo a vedere se effettivamente si può finire gta 5 5 minuti perché mi si è rovinato un po di tempo però comunque sia alla base spendere 75 euro per un gioco e finirlo in 5 minuti secondo me è un po una perita di soldi anche di dignità secondo me tanto acquista caricando la storia e ovviamente inizieremo tutto dal prologo prologo nell'anno 2004 ormai ragazzi questo prologo dal 2013 che gira su youtube da quando ci gta ed ecco qua proprio la scena iniziale che siamo verso natale perfetto come diceva il video adesso noi dobbiamo rompere l'estintore l'estintore ecco ok poi dice avvicinarsi all'albero di natale o e aspettare 30 secondi noi quindi da 440 io aspetto un minuto a 5 e 40 me ne vado voglio vedere che succede ok allora io non ce l'ho andata nessuna chiave proviamo ad andarcene se magari travel mi facesse passare grazie mille ok adesso c'è da andare in questa stanza noi il nostro l'abbiamo fatto vediamo allora ok a noi non ci è arrivata nessuna notifica come dire di averci con la chiave però noi andiamo avanti noi andiamo avanti fino al punto in cui dovremmo scoprire se in effetti gt ha finito o meno ok andiamo avanti adesso c'è da andare a rubare nella stanza la prima rapina la mette questa è una missione di una semplicità in mano a parte che la parte in cui devi sparare in testa non è per niente semplice però ok lo faccio in terza persona quando ho portato la storia l'ho fatta tutta in prima ma vabbè adesso c'è da uccidere questa guardia qui lo devo fare con Trevor da cambiare personaggio ok 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 personaggio intanto non lo posso cambiare adesso qua c'è questa secret room e dovrebbero darci una chiave per aprire intanto che non posso cambiare personaggio guardate qualsiasi cosa la stanza non si apre controlliamo ci fossero altre stanze ma qua altre stanze non ce ne sono staff only proviamo qui non c'è niente ragazzi niente niente di niente e allora andiamo avanti qui non si può diciamo qua a parte aver rotto l'estintore non c'è niente che corrisponda alla verità intanto che vado avanti vi mostro il video adesso c'è da andare dall'alieno ok c'è andare dall'alieno che so benissimo dov'è perché l'ho visto e tanto si va all'alieno tanto c'è da fare fuori tutti quanti non metto trucco in vecibilità perché a parte che mi vogliono quegli altri non sono vigliacco fino a questo punto quindi quindi mi prenderò una volta a fare cose che ho fatto ormai tantissime volte penso a memoria come fare questa missione avevo 13 anni ero in terza media la prima volta che l'ho fatta già la feci tipo due o tre volte che l'hanno lì sono un punto superiore quindi pensate quanto tempo è passato e nonostante tutto questo gioco non mi ha ancora stancato ovviamente gioco GTA Online adesso non sono fortissimo non sono di rango alto perché il tempo per giocarci è veramente poco però comunque mi diverto lo so il fatto mio arriva un altro Ottuglia intanto qui il video dice di restare con Michael perché Michael il personaggio troverà molte virgolette che dice corriamo e saliamo sulla macchina e adesso c'è da andare dall'alieno sotto il ponte diamo un attimo il video e dice che lui muore perché si saltano fuori gli alieni e quindi lo faremo anche noi e nel caso come vedete qua si morisse si va a fare il tuo convincibilità che non ricordo veramente qual è quale sia perché il telefono è morto in carica quindi in qualche modo mi ingegnerò con un altro dispositivo allora sotto il ponte c'è l'alieno vediamo se almeno quelli anche se non ci fanno completare la storia succede qualcosa oddio ok non sto guidando cosa devo fare abbannato il ponte ok ci riproviamo noi non molliamo noi non molliamo alieno almeno guardiamolo almeno l'alieno no dovevo andare prima 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 ok entriamo di qua oh Gesù oh Gesù alieno è qua eh ma che cavolo proviamoci un'altra volta e se no poi consatremo ufficialmente che questa è una mera bufala moddata cosa che io tranquillamente mi aspettavo cosa che appunto è impossibile però appunto volevo fare il video per lasciare il beneficio del dubbio eccoci eccoci alieno 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 prima che mi eccolo l'alieno ecco l'alieno c'è l'alieno c'è persona è fallita e il nostro mito è portato a compimento il nostro mito è stato portato a compimento è una mera bufala e quindi torniamo alla nostra partita di prima in cui appunto sarà già finita abbiamo constatato che questa è una bufala mega galattica e magari consigliatemi anche voi altre cose strane che vedete e tenterò per quel che riesco sia per il tempo che per la fattibilità delle cose di provare a constatarle detto questo ragazzi avevo scritto scritto nel titolo un pezzino così novità su GTA 6 allora novità ho letto qualcosa stanotte pensate un po' GTA 6 si farà perché fino a qualche tempo fa se ha detto che GTA 6 molto probabilmente non ci sarebbe stato e che avrebbero continuato in maniera diciamo veramente ossessiva ad aggiornare GTA Online prenderlo ancora più efficiente più bello e più interattivo non solo che io che ormai la mappa di GTA la conosco meglio del palmo della mia mano mi è venuto anche un po' annoia sinceramente giocare sempre nei soliti posti pur quanto la mappa GTA ragazzi soprattutto anche dipende cosa fai dove lo fai su GTA Online cambia perché magari alcune strade non sono così alcuni luoghi sono modificati rispetto anche all'evento o al tipo di gioco ma sinceramente qualcosa di nuovo secondo me servirebbe benissimo quindi la notizia un po' scoraggiante è che molto probabilmente anzi quasi sicuramente GTA 6 uscirà per console next gen ovvero PlayStation 5 tra 2021 e 2022 e non sarà prevista la versione PlayStation 4 quindi ragazzi se ci vede giocare prima spendetevi quel 4-500 euro per la PlayStation 5 e la cosa invece che veramente mi grata tantissimo è che sono presenti tre città Los Santos Liberty City e Vice City alla fine sono le città in cui sono cresciuto parlando diciamo virtualmente perché GTA 5 la terza media poi che c'ho rifatto di tutto GTA 5 la storia 13-14 volte poi l'online veramente di tutto e di più il periodo delle medie ho giocato dalla quinta elementare alla seconda media ho giocato anche la PSP Vice City Stories finito veramente un casino di volte pure quello e poi Liberty City dalla quarta elementare fino all'uscita di GTA 5 tutto il periodo di GTA 4 Liberty City secondo me è poi a me piace più New York di Los Angeles non ci posso fare niente è stato bellissimo cioè il mio preferito non ho mai giocato a GTA San Andreas piccola pecca piccola notizia non ho mai giocato a GTA San Andreas però visto che con 15 euro il Super Station Plus si può acquistare e quindi magari un pensilino sopra ce lo farò adesso testa Red Dead Redemption 2 che voglio assolutamente comprare non ho mai tempo non ho mai soldi detto questo ragazzi ho dato le notizie abbiamo constatato che questa buffala è veramente mega galattica e come avete visto lì a poso del quadro che è passato ora c'è la foto di Brad Trevor e Michael con scritto 100% tutta l'abilità sono al 100% in realtà ragazzi l'abilità dei personaggi andiamo a verificare sono a parte ci dovrebbe essere scritto 100% però vabbè appunto invece no rimanano veramente tantissime cose da fare ragazzi soprattutto sport e passatempo detto questo ragazzi ci vediamo nel prossimo video lasciate un like iscrivetevi spero che questo vi sia piaciuto perché ci ho messo anzi parlo col futuro nel passato nel passato nel futuro ci ho messo tanto tempo tanto impegno per farlo quindi spero vi sia piaciuto se mi è piaciuto io non posso farci niente ve li farò e grazie a tutti della visione dell'attenzione un bacione e ci vediamo alla prossima bye bye ciao ciao ciao